Forza, forza ragazzi, dai! Buongiorno! 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 Questo è il momento che stavate aspettando. E tutto ciò che è passato sta per ritornare. Emilio, cortesemente potresti andare in biblioteca a ritirare quel libro che ho chiesto? Certo, corto, vado subito. Grazie. Trattenete il vostro respiro. C'è nessuno? Boh, io ne ho. Ma è mo' sto libro, una parola? Ma quanti libri! Boh, c'era questo? Mamma mia quante foto dell'altamura! Ma allora era non vero che era una ciaccavina? Il meglio è già avvenuto. Ma quello che sta per arrivare, voi non avete assolutamente idea. Oh, che merito sta. Emilio, ma tutto in questo tempo, ma cosa divertimento? Ascolta, però, 150? Perché è un'altra mura che va a 150. Stai andando forte! Stai andando forte! Apri tutte le porte! E questa è tipica, 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 tipica! Tipica! Perché è solo! ikumio, ma tutto in questo tempo! Dove io mi viene! Oh! Oh! Grazie a tutti.